Buon martedì pomeriggio e ben ritrovati a Linea Attualità, il nostro programma di approfondimento quotidiano, stando ai numeri di oggi la situazione non migliora, lo ha detto anche il governatore della Lombardia Fontana che i numeri del Covid non migliorano, quindi è prevista probabilmente una nuova stretta almeno in Lombardia, probabilmente potrebbe così scattare anche la famosa zona rossa per le prossime settimane, nel frattempo torna ad attualità ancora il tema della chiusura delle scuole con ovviamente le difficoltà di tante famiglie lombarde e torna ad attualità anche il tema degli assembramenti perché insomma pare che a Milano questa situazione non riesce a cammierarsi. Nel frattempo il CTS a livello romano ha detto che sono previste nuove restrizioni soprattutto per quanto riguarda i fine settimana, questo lockdown potrebbe essere simile a quello che abbiamo già vissuto nel periodo di Natale. Poi c'è il tema ovviamente dei vaccini, ieri sono iniziate le vaccinazioni nel mondo scolastico, nel frattempo la notizia di oggi che Mede, comune Lomellino che era in zona rossa è diventato uno dei primi centri se non il primo centro in Italia ad aver vaccinato anche gli over 50, era zona rossa quindi la precedenza era proprio riferita e riservata appunto a questi centri che erano di colore rosso, quelle le zone più preoccupanti a livello lombardo e oggi insomma ha chiuso questa campagna vaccinale dove addirittura sono stati vaccinati gli over 50, quindi è uno dei primi comuni Mede in Lomellina che è stato in comuni italiani ad aver vaccinato gli over 50. Ecco vado subito a presentarvi gli ospiti di oggi, con noi in collegamento Skype abbiamo da Pavia Simone Agutoli, segretario del coordinamento per il diritto allo studio Udo di Pavia dell'Università degli Studi di Pavia, ben ritrovato Agutoli. Grazie direttore, buonasera a tutti. Con noi anche in collegamento da Stradella abbiamo il vice sindaco Dino Di Michele, ben ritrovato anche lei vice sindaco. Buonasera a lei direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Allora parto dalle nuove generazioni, dai studenti che stanno vivendo sicuramente una situazione poco piacevole, ne abbiamo parlato tanto in questi mesi di linea attualità, ancor di più in queste ultime ore, da quando? Da venerdì ovviamente la regione Lombardia è passata in zona arancione rafforzato e questo significa chiusura delle scuole. Ecco Agutoli, ieri avete fatto una manifestazione in Piazza della Vittoria, avete fatto sentire la vostra voce insieme agli altri gruppi di studenti, ecco perché? Insomma vogliamo sentire dalla sua voce le motivazioni che avete espresso proprio nel cuore di Pavia. Perché ci sentiamo dimenticati, in sostanza da un anno che ci rivolgiamo alle istituzioni e alle politiche chiedendo delle cose e puntualmente veniamo o non ascoltati o talvolta non ci rispondono neanche. Ovviamente il tema centrale è quello della didattica a distanza e lo sappiamo e tantissimi studenti soffrono questa situazione, però non è solo quello, infatti quello che chiediamo è quello di garantire a noi studenti universitari una formazione di livello, di qualità, cosa che non ci è stata sempre assicurata nei discorsi mesi. Sicuramente uno degli esempi più pratici che ha avuto molto risalto in questi giorni è la situazione degli studenti di medicina, ci si chiede come possono studenti imparare a fare una puntura se non mette mai i piedi in ospedale, ma in realtà il tema è più ampio e riguarda proprio la garanzia di una didattica, di qualità, di una formazione di qualità. Io mi chiedo quale futuro può avere questo paese se non investiamo nei giovani e non è solo i medici, vedete tanti studenti nelle immagini in camice, ma è più generale perché rimanendo sul Covid ad esempio coloro che processano i tamponi in questi giorni in laboratori sono persone che devono essere formati nell'università, ma oggi l'università fatica a formarle. Più, ma lo accenno solo, tutto il tema economici, cioè in questo momento gli studenti pagano degli affitti senza poter utilizzare quegli appartamenti. Abbiamo chiesto la possibilità di accedere a dei ristori economici e ancora non abbiamo avuto accesso a questi ristori economici, quindi è chiaro che il tema è molto ampio, chiediamo una didattica di qualità, chiediamo una formazione di qualità e chiediamo anche di essere supportati economicamente. Michele, queste sono le richieste legittime, legittimissime, passatemi questo termine, degli studenti. Lei cosa ne pensa anche da amministratore pubblico di uno dei comuni più importanti della provincia di Pavia? Abbiamo visto anche quelle immagini della protesta di ieri in Piazza della Vittoria. Io penso che abbiano pienamente ragione, anche perché non possiamo pensare che seppur a distanza di un anno questo Paese sia pronto, noi non siamo pronti a gestire queste situazioni e dico questo perché ci troviamo ogni giorno, io lo dico in quanto anche assessore all'istruzione, nel mio comune, la difficoltà delle famiglie in questi giorni e in questi giorni percepisco maggiormente la difficoltà di coloro i quali hanno bambini nell'età della scuola dell'infanzia e dell'elementare, sono scuola primaria di primo grado, perché? Perché dobbiamo immaginare che non tutti hanno la disponibilità di avere una babysitter, magari già individuata da tempo, che quindi immediatamente è pronta dall'oggi al domani a venire in casa e quindi essere conosciuta, fidata. Non abbiamo magari anche noi come amministrazione, insieme ai presidi degli istituti, dell'istituto comprensivo per quanto riguarda le scuole elementari e medie, così come abitualmente le ricordiamo, perché le strutture negli anni non sono state pensate per avere la didattica di tutta una scuola pronta, efficiente, senza difficoltà di connessione e per quanto diceva l'amico prima, è evidente che noi non possiamo oggi individuare forme di didattica così come vengono proposte. Prima di tutto c'è la salute pubblica e questo è evidente che ci deve far riflettere, però non possiamo neanche pensare che un anno scolastico è passato come è passato, quello scorso e questo, oramai siamo a febbraio, quindi io direi che gran parte di ciò che dovevamo fare è stato fatto, ci avviamo alla primavera e questi bambini, questi ragazzi che cosa avranno? Cioè che cosa avranno? Oltre che per quello che hanno perso come didattica, come formazione, ma anche in rapporti interpersonali. La scuola non è solo ed esclusivamente le nozioni che vengono diciamo trasmesse dagli insegnanti, ma è proprio socialità e questo lascerà un segno, noi di questo pagheremo le conseguenze, io ne sono certo. Sono convinto anch'io di questa sua affermazione, Vice Sindaco. Agutoli, oggi il Comitato Tecnico Scientifico che si è riunito a Roma tra le tante cose ha parlato ovviamente anche della scuola. E come riporta il nostro titolo, addirittura non c'è una data per la riapertura. Insomma, questa emergenza, questi dati ancora di queste ore ovviamente non danno prospettive. Ecco, quindi gli studenti secondo lei come si dovranno adeguare a questa situazione di continui stop and go? Ah, bella domanda. Noi soffriamo tantissimo questa situazione. Giusto due settimane fa il Ministro Messa parlava di una possibile riapertura dell'università ad aprile. Ho letto le sue dichiarazioni di ieri, se non erro, in cui adesso si parla di giugno. Non possiamo vivere così, non possiamo vivere così e quando si fanno delle dichiarazioni pubbliche bisogna anche assumersi la responsabilità di quello che si dice tra maggio e giugno oppure settembre, ci sono tanti mesi in mezzo. Quindi serve quella che io ho definito una rete di supporto psicologico, economico, formativo agli studenti universitari, ma in generale a tutti gli studenti. Ad esempio, una cosa che abbiamo chiesto è la possibilità di avere uno sportello psicologico, degli psicologi ai quali rivolgersi. Questo ovviamente non sopperisce al problema del complesso, ma almeno ci aiuterebbe, piuttosto che ovviamente consentire in presenza almeno quelle attività che non sono surrogabili in remoto. Si tratta veramente di tante richieste che potrebbero in qualche modo rendere più facile queste settimane, questi mesi di grande decisione. Però, per tornare anche alla domanda, è chiaro che noi abbiamo bisogno di un minimo di certezza. Noi abbiamo fatto, ed è incredibile se ci pensate, quattro giorni di presenza. Quattro giorni in cui siamo andati a lezione, dopodiché ci hanno richiuso immediatamente. Quando, tra l'altro, il ministro Messa già prima diceva che probabilmente si chiudeva tutto e non si può fare così. Uno studente come fa a sapere se prende l'affitto o no? Se poi, dopo quattro giorni di lezione, gli viene chiusa. E purtroppo anche sulle scuole la situazione è simile, i problemi sono forse un po' diversi. Però anche lì c'è un problema di programmazione, di programmare la vita, di programmare anche da parte dei genitori, dei parenti. E quindi quello che chiediamo è di provare ad avere un punto fermo. E sicuramente la nuova colorazione dell'arancione rafforzato non aiuta. D'altronde, lo stesso CTS che citava lei, direttore, ha ricordato come chiudere le scuole serve soltanto se si chiudono anche le altre attività. Non ha senso non mandare gli studenti a scuola se poi questi si postano a sembrare fuori, di fronte al centro commerciale, nelle vie cittadine o in altri posti. Quindi veramente riteniamo incomprensibile la scelta di Regione Lombardia che va anche contro le indicazioni del CTS nazionale. Non serviva inventarsi una nuova colorazione in questo momento. Ecco, Vice Sindaco, parole anche forti di Agutoli, di Michele. Io sentendo il suo punto di vista non posso che condividerlo, però da amministratore devo anche dire che a volte ci sono delle situazioni e dei dati e delle informazioni tali per cui si devono fare delle scelte scomode e delle scelte impopolari. Perché non sempre si vive di propaganda, ma bisogna essere concreti e focalizzare su quelli che sono i problemi. Condivido però anche perché, non solo per il mondo della scuola, ma lei ricorderà che nell'ultima volta che sono intervenuto nella sua trasmissione parlavamo di commercio e la programmazione è il centro di tutte le cose. Se si ha chiaro ciò che ci prospetta, il tempo davanti a noi e sappiamo che questa condizione la dobbiamo affrontare per un mese, due mesi, sei mesi, cioè la programmazione, il fatto di avere punti certi, concede, conserve una organizzazione. Consentendo una organizzazione, conseguentemente, questo lo dicevo per l'attività produttiva, ma anche per il mondo della scuola, perché lui ha ragione, ci sono famiglie che oltre a dover sborsare quelle che sono i costi per i loro figli, evidentemente hanno magari affittato, dovevano affittare degli alloggi e conseguentemente anche coloro i quali hanno degli alloggi da affittare, quindi c'è un mondo, un tessuto economico che si muove, quindi la programmazione, il sapere dove andiamo a finire ci aiuta, però questa pandemia dobbiamo anche dire che le varianti, noi abbiamo affrontato una situazione altalinante, a fisarmonica, io uso il termine fisarmonica perché mi è più proprio, essendo Stradella la città della fisarmonica, ma questa idea, questa di essere un momento più tranquilli a Stradella, nell'esempio specifico, io mi riferisco ai dati che abbiamo noi, abbiamo avuto una situazione tranquilla, insomma sommariamente tranquilla nella prima parte di febbraio, poi proprio da un giorno all'altro quasi, i numeri si sono quintuplicati e quindi anche la preoccupazione dell'amministrazione e le reazioni, noi ad esempio il sindaco di concerto con la giunta ha deciso cinque giorni prima di quello che poi era il decreto della regione di chiudere i luoghi, i parchi gioco, perché? Perché avevamo riscontrato che essendoci delle belle giornate di sole, seppur con rammarico, perché poi queste scelte non sono mai scelte a cuor leggero, evidentemente ci sembrava una situazione di pericolo, questo succede poi davanti ai bar, come diceva l'amico prima, succede ai centri commerciali, le scuole, io lo dico perché ho verificato con gli istituti superiori, con i presidi, con l'istituto comprensivo, la scuola è un luogo sicuro in sé, perché tutte quelle caratteristiche, quei piani di sicurezza che siamo stati chiamati ad affrontare sono rispettati e rispettati a pieno, però è il tempo precedente e successivo. Il tema chiave di questi mesi è proprio questo, comunque abbiamo la certezza che il banco di scuola vero e proprio è un luogo sicuro, poi ovvio l'arrivo a scuola sui mezzi piuttosto che sui marciapiedi sotto le pensiline, è ovvio che lì il problema poi si ripercuote in modo massiccio. Agutoli, io volevo capire, la settimana scorsa abbiamo avuto ospite il suo rettore, che insomma ci ha raccontato un po' come ha vissuto l'università gli ultimi mesi di questa drammatica pandemia, ha detto che l'università ha fronteggiato molto bene l'onda d'urto del del covid. Ecco, vogliamo invece sapere dalla voce sua, quindi dalla voce degli studenti, dall'altra parte del cosetto rovescio della medaglia, se è davvero così? Dipende, secondo me, dipende da quale attività universitaria ci riferiamo. Io ho vissuto negli scorsi mesi anche, sentendomi molto spesso con il rettore che è stato ospite della vostra trasmissione su alcuni temi chiave. L'università inizialmente, secondo me, ha saputo reagire anche abbastanza bene. Rispetto alle altre università abbiamo visto, ad esempio, una capacità di spostare le lezioni online molto più rapida di molti altri colleghi di altre università lombarde. Però, a un certo punto, bisogna anche fare delle scelte, secondo me, più chiare. E a volte è colpa dell'università, a volte no. Mi spiego meglio. È chiaro che se mancano delle strutture, mancano dei laboratori, la responsabilità è in parte dell'università che forse non ha saputo fare la programmazione edilizia necessaria negli anni scorsi, in parte però è anche colpa dello Stato che non ha assicurato quei finanziamenti poi essenziali per fare quegli investimenti nell'edilizia. Quindi la questione è molto complessa. Oggi, ad esempio, noi riteniamo, e l'abbiamo detto chiaramente, che l'università poteva fare di più sulle attività pratiche, quindi sono molto contento. Un paio di giorni fa, per fortuna, abbiamo discusso, insomma, anche direttamente con il Rettore, la possibilità di consentire i piccoli gruppi nei laboratori, che sembra una cosa, come dire, magari a chi non è pratico una cosa piccola, ma non lo è, perché consentire agli studenti di entrare in laboratorio oggi è qualcosa di essenziale. Quindi, come dire, la valutazione che io do sull'università di Pavia è, come dire, chiari e scuri, nel senso che si poteva fare di più, in parte forse non per colpa dell'università stessa, ma anche per colpa della politica che non è stata in grado di assicurare quei finanziamenti necessari per l'università. Un tema molto interessante è anche poi, come dire, trattare con gli enti esterni, come possono essere gli enti ospedalieri, perché se l'ente ospedaliero non ammette il tirocinante, è la responsabilità certo dell'ente ospedaliero, ma anche dell'università che deve essere brava a interfacciarsi con l'ente ospedaliero. Quindi è una questione molto complessa, sicuramente c'è ancora molto da lavorare e noi pretenderemo sicuramente dei risultati, perché dopo un anno certe situazioni sono veramente insostenibili. Allora, cambiamo un attimo argomento, rimaniamo ancora a parlare di giovani, perché ovviamente riparto ancora da Gutoli e poi mi sposto dal vice sindaco, perché ancora una volta le nuove generazioni sono state messe al muro, alcune volte anche giustamente, lo dico senza giri di parole e peli sulla lingua, perché insomma sono stati un po' la causa di quegli assembramenti soprattutto quelli dell'ultimo weekend di zona gialla, soprattutto a Milano, oppure in piazza della Vittoria Pavia, in Darsena, Milano, sui Navigli, insomma che hanno creato parecchie polemiche anche politiche. Allora Gutoli, voi vi sentite un po' presi di mira, oppure quella è una, tra virgolette, una frangia, mi passi questo termine poco corretto, ma per capirci una frangia di giovani irrispettosi del vivere comune? Ma io penso onestamente che la maggior parte degli studenti universitari siano persone responsabili, ovviamente parlo degli studenti universitari perché sono quelli che conosco di più e che rappresento, ma lo vediamo veramente anche da ogni giorno. Ad esempio una cosa che mi ha fatto molto piacere è che molti studenti che magari venivano da lontano, che vivivano con delle famiglie, hanno evitato anche di arrivare all'università. Dopo però ci sono queste scene, sono scene che sicuramente fanno male, fanno male per tutti quegli studenti che invece vorrebbero magari andare a scuola e non possono perché il contagio cresce. Quindi io non voglio, come dire, usare mezze parole e non ho problemi a condannare in maniera ferma tutti questi assemblamenti. Sono immagini veramente dolorose per chi crede nella scuola e chi crede nell'università. Quindi veramente io auspico che tutti i giovani si facciano anche carico di una responsabilità individuale che non deve mancare in questo momento storico. Detto ciò vorrei comunque sottolineare come secondo me la scuola e l'università possono rappresentare anche un luogo più controllato. Anzi, io penso sempre alla differenza che c'è incredibile tra i controlli. Facevo riferimento anche il vice sindaco a tutti quei protocolli sanitari adottati all'università o nelle scuole e dall'altra parte quegli assembramenti totalmente incontrollati. Quindi il tema è questo. O riusciamo ad evitare questi assembramenti o comunque a capire anche da dove arrivano effettivamente i contagi e quindi riusciamo a fermare, in base anche alle indicazioni che ci ha dato il CTS, a fermare questi contagi, ma la soluzione non può essere chiudere le scuole. È proprio una differenza sostanziale tra quello che capita nelle scuole e quello che capita fuori. Quindi, ripeto, condanna ferma rispetto a questi assembramenti, non uso giri di parole. Dall'altra parte però facciamo anche le dovute differenze, perché secondo me la stragrande maggioranza dei giovani sono persone assolutamente responsabili, poi purtroppo non tutti, lo vediamo in queste scene dolorose. Vice sindaco, la GUTO gli ha sottolineato un aspetto particolarmente importante. Detto senza giri di parole, non si può fare tutta un'erba un fascio, nel senso che comunque bisogna distinguere magari l'università o la scuola, un'area, una zona sicura, un'attività sicurissima e poi magari ovviamente il discorso dei navigli piuttosto che di piazza della vittoria a Pavia, dove magari anche qui il controllo non viene neanche magari effettuato. Allora, c'è da dire questo. C'è da dire questo che il principio base è il senso di responsabilità di ognuno, perché è evidente che se non si parte da noi stessi e quindi in senso più ampio, giovani e meno giovani, guardi perché glielo dico da cittadino, glielo dico da persona della strada che frequenta spesso e volentieri, oltre che la mia città, anche per lavoro altre città e mercati e tutto quello che si vuole, il senso di responsabilità è trasversale a tutte le età. È evidente che noi abbiamo nel tempo, in questo anno, dovuto obbligatoriamente adattarci, affrontare, discernere ciò che era da fare da ciò che non era da fare, acquisire e far rispettare protocolli che sono indispensabili e dove si rispettano quelle regole, noi abbiamo la ragionevole certezza di essere in un luogo sicuro. È evidente che tutte queste immagini vanno condannate perché vanno condannati tutti quegli atteggiamenti irrispettosi delle regole, perché non è io sono molto deciso, io sono determinato e come comprendo l'essere giovane, il voler di tanto in tanto trasgredire, però in questo momento bisogna capire la gravità delle azioni, perché il non rispettare delle regole, che sia a Pavia, a Stradella, a Milano o in qualsiasi luogo, oggi direi in qualsiasi luogo del mondo, è evidente che porta delle conseguenze dirette e indirette, perché se non si è compreso fino ad oggi e a volte anche gli strumenti di comunicazione di massa, perché chi frequenta i social, noi vediamo che ci sono delle bestialità assurde sui vaccini, sui contagi, ancora oggi si mette in discussione quello che è indiscutibile, per cui se non si parte dall'educazione e dal rispetto, perché a me l'hanno insegnato proprio, ma non dico l'università, me l'hanno insegnato alle scuole elementari, la mia cara maestra mi diceva che il rispetto parte evidentemente dalle mie azioni quotidiane, cioè la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri e in questo momento noi non possiamo non capire giovani e meno giovani, lo ribadisco, poi è evidente che i giovani in questi momenti sono quelli che poi abbiamo in più occasioni notato e Stradella che fortunatamente essendo il centro dell'oltrepo orientale è, e lo dico sempre ma non posso non essere chiaro su questo, è una città molto viva, vivace e da Casteggio a Voghera, a Pavia è una delle città più vive. Pavia ha al suo interno l'università che la rende una città di cultura, dinamica, vivace, Stradella pur non avendo queste caratteristiche nel tempo è sempre rimasta una città molto effervescente, per cui anche questo che è un aspetto assolutamente positivo e che deve essere sostenuto in altri momenti oggi è un elemento di preoccupazione. le forze dell'ordine con le quali noi abbiamo continui contatti, non solo la polizia locale ma i carabinieri piuttosto che la polizia, la guardia di finanza che pur non avendo più la caserma Stradella di tanto in tanto ma con frequenza pattuglia anche il nostro territorio, non può essere ovunque. Nel tempo abbiamo visto che ci sono state sanzioni, chiusure anche di esercizi commerciali, ma dobbiamo anche capire che la colpa non è sempre a volte, ma non è sempre degli esercizi commerciali, dei bar, perché? Perché se non si parte da quel che dicevo all'inizio, dal senso di responsabilità di ognuno, non c'è regola, allora serve l'esercito, serve un militare e ogni cittadino e questo non è possibile. Ci vuole la parola responsabilità, insomma, senza giri di parole. Allora mi fermo per qualche istante, vado in pausa pubblicitaria, poi ritorneremo ancora in diretta a parlare di altre tematiche di stretta attualità. A dopo. Eccoci nuovamente in diretta con Linea Attualità, abbiamo in collegamento da Stradella al vice sindaco Dino Di Michele e in collegamento invece da Pavia a Simone Agutoli, segretario del coordinamento per il diritto allo studio Udo di Pavia, dell'Università degli Studi di Pavia. Agutoli, ritorno da lei a parlare anche di giovani. Una cosa che mi ha spaventato, devo essere onesto, è un'intervista che ho fatto pochi giorni fa a un medico del Mondino di Pavia che ha sottolineato quanto tra i giovani nell'ultimo anno si è aumentata del circa il 50% una situazione di malessere generalizzato che addirittura, soprattutto anche nei giovani della fascia adolescenziale, quindi non è sicuramente la sua, sfocia addirittura in atti di suicidio o anche di autolesionismo. Ecco, al di là dell'aspetto medico e sociale, volevo capire da lei Cos'è che manca a voi giovani in questo periodo? Perché Di Michele prima sottolineava l'aspetto della socialità al di là dello studio sul banco di scuola, mi passi il termine. Ma è chiaro, tutti siamo stati giovani e tutti abbiamo passato questi anni e penso quanti ricordi che è stata la scuola e l'università si porta dietro, perché l'università e la scuola, lo diceva prima anche il vice sindaco, non è solo l'apprendimento nozionistico, ma sono tutte anche quelle esperienze che uno fa nelle mure scolastiche, nelle mure dell'università e poi sono anche tutti quei momenti di socialità. Io tra l'altro ho una testimonianza che sentivo qualche giorno fa da una studentessa che mi raccontava come viveva praticamente H24 all'interno del suo monolocale qua Pavia, perché dorme lì, mangia lì, studia lì con i propri compagni, fa le videochiamate da tutto quel monolocale, non è senza neanche un balcone e mi diceva mi sento quasi in carcere perché io vivo in questo monolocale, passo tutta la mia vita in questo monolocale ed è veramente terribile. Queste testimonianze francamente mi fanno veramente rabbrividire. Il punto è rendersi conto di questa cosa che è una situazione che diventa ogni giorno sempre più insostenibile ed è anche per questo che prima chiedevo degli strumenti di supporto psicologico. Noi abbiamo anche sia dagli studenti più piccoli sia dagli studenti universitari un accresciuto bisogno di supporto da parte di professionisti che sappiano anche come affrontare queste situazioni di difficoltà ed è quindi veramente una priorità sulla quale le istituzioni scolastiche e la politica secondo me devono dare delle risposte. Quindi tra l'altro anche noi stiamo pensando a dei progetti proprio per venire incontro agli studenti anche per cercare di sostituire quella socialità persa con strumenti telematici, però non è facile, non è facile perché la distanza, gli strumenti telematici non potranno mai sostituire completamente tutte quelle esperienze che uno per farle deve farle in presenza, deve farle con gli altri giovani, con gli altri compagni. Ecco ad appesantire questa situazione diceva prima Guduli che c'è anche poi l'aspetto economico o magari di affitti che non vengono usufruiti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Purtroppo il studente universitario sostiene delle spese fisse veramente elevate, a Milano ancora di più rispetto a Pavia, considerate infatti che un affitto medio a Pavia a distanza singola costa 300 euro al mese, ma Milano può arrivare a cifre molto più alte, tranquillamente di 450 euro al mese, magari stanza doppia, quindi più tutte le altre spese che si aggiungono perché ci sono le tasse universitarie, i costi magari degli abbonamenti, dei trasporti che uno comunque deve fare perché se ha bisogno di spostarsi evidentemente dovrà fare questa spesa, più le spese comunque per vivere in una città costosa come può essere Milano o un pochino meno costosa come può essere Pavia e tra l'altro se considerate anche che molti studenti hanno avuto un calo del reddito in questi mesi, molti dei lavoretti che facevano prima come può essere il barista oppure comunque attività e il cameriere non lo fanno più, non le fanno più e quindi addirittura non solo dalla parte i costi fissi sono rimasti invariati o forse per alcuni sono aumentati, ma dall'altra parte abbiamo anche delle entrate più basse, quindi veramente una situazione economicamente insostenibile. Come vi accennavo prima abbiamo chiesto alla regione Lombardia e allo Stato un aiuto perlomeno agli studenti fuorisede, che sono quelli che pagano i costi più elevati e purtroppo ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcun aiuto significativo, pensate che lo Stato italiano ha stanziato per quest'anno 15 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per aiutare gli studenti che pagano gli affitti, mentre invece la regione Lombardia non ha stanziato nulla rispetto ad altre regioni che invece hanno fatto delle scelte diverse. Cosa ce ne fanno gli studenti universitari di 15 milioni per pagarli affitti? Per carità meglio di nulla, ma non sono quei 15 milioni a risolvere il problema. È veramente urgente che secondo me le istituzioni si facciano una riflessione seria di dove vuole andare questo paese, di quanto si vuole investire sui giovani e quindi veramente degli aiuti. Le borse di studio sono bassissime, hanno dei criteri di merito tra l'altro in Lombardia i più alti d'Italia. È arrivato il momento di interrogarsi su questi problemi e di dare risposta. Perché se ieri 300 studenti sono scesi in piazza in piena pandemia, non è perché siamo dei pazzi, volevamo farci vedere tanto perché non avevamo nulla, ma perché veramente c'è una sofferenza, c'è una difficoltà anche economica che non sappiamo più come affrontare. È stato chiarissimo. Di Michele, un appello concreto, un appello forte, quello dello studente. Insomma, bisogna chiedersi, ha detto, quanto bisogna investire sui giovani e se questa domanda se la pongono addirittura un giovane stesso è preoccupante. Vuol dire che si sente completamente abbandonato dall'istituzione, abbandonato anche dalla politica? Perché poi abbiamo sentito anche quello, tra le parole di Agutoli. Noi dobbiamo investire tutto sui giovani perché sono il nostro futuro. È evidente che la politica si deve interrogare su questo. La politica deve, non solo a parole, ma con gesti e azioni concrete, deve portare avanti tutta una serie di misure legate al mondo giovanile, al sostegno, perché questa situazione, come diceva prima Agutoli, ha già portato e porterà grosse sofferenze. C'è un disagio interiore che coinvolge i nostri giovani, i nostri ragazzi, che si sono trovati da una vita che poi era la vita normale per noi tutti, in un periodo di formazione. Perché pensiamo quanto ha colpito noi, ecco, in una struttura in costruzione, in un giovane che è, diciamo, nella fase in cui apprende, in cui con la socialità cresce, si migliora nel confronto, negli errori, nella vita quotidiana, l'abbiamo provato tutti e questo ha portato e porta e porterà, l'ho già detto prima, ma mi ripeto, dei grossi problemi. Io da amministratore locale di una realtà piccola, perché insomma medio piccola, ho fatto fare dai miei uffici, degli studi, io ho anche la delega ai servizi sociali e vedo, l'ho vista, confrontandomi con i dirigenti e con gli insegnanti, la sofferenza di questi ragazzi, la sofferenza di questi ragazzi è considerevole. Noi oggi, io vorrei poter investire, ma non ho le risorse. Perché? Perché è evidente che se non interviene lo Stato centrale con fondi, con liquidità, io vorrei che lo facesse direttamente lo Stato centrale, ma per essere più vicini, quindi più prossimi ai bisogni concreti, bisogna che si passi attraverso l'ente locale. Questo per tutte le cose. Se si vuole diffondere un'economia, una rete diciamo economica di base, bisogna partire dagli enti locali e se si vuole stare vicini alle persone, scusatemi, bisogna partire dagli enti locali. Noi abbiamo sofferenze che coinvolgono gli anziani per il senso di abbandono. I giovani, le famiglie sono cresciute notevolmente, lo dobbiamo dire, ieri era l'8 marzo, le violenze domestiche, i femminicidi, le violenze che coinvolgono il nucleo familiare costretto in un ambiente, in una situazione a volte anche di povertà economica, di povertà anche sociale, culturale, che è tutta una conseguenza, che in questi momenti di repressione, in quattro mura, come diceva Cutoli per quella ragazza che ha portato ad esempio, che in questi mesi ha vissuto la didattica, la socialità con gli amici, magari con la famiglia perché è lontana, tutto in quattro stanze magari di 30 metri quadri. Questo ha un risvolto psicologico pesante, ce l'ha per tutte le fasce di età, ma per le fasce in crescita e sviluppo e per le fasce anche più anziane, questo è un grosso problema sociale e la necessità di avvicinarsi e di creare strutture di supporto psicologico, lo dico a me stesso come amministratore, è fondamentale. Io ho implementato attraverso i nostri canali le ore della psicologa che in comune ascolta coloro i quali si rivolgono a noi, ma quelli che si rivolgono a noi sono i casi con difficoltà maggiore perché ci sono già stati degli alert, ma noi dobbiamo raggiungere tutte quelle difficoltà e quelle persone che magari non abitualmente vengono in comune perché hanno bisogno di sostegno psicologico. Quindi il passaggio è la scuola, se la scuola è aperta, gli insegnanti, gli educatori, e lo dice il termine stesso, comprendono il disagio di quel ragazzo. Scatta immediatamente il campanello d'allarme nella scuola, evidentemente. Agutoli, abbiamo capito da lei che ovviamente voi siete in una situazione davvero difficile e drammatica. Dall'altra parte abbiamo sentito invece la voce dell'amministratore che dice noi vorremmo investire nel mondo dei giovani, però ovviamente le risorse ci devono arrivare ovviamente dal governo centrale. Draghi pare insomma che abbia messo sotto il profilo dell'importanza i giovani alla pari della sconfitta di questa drammatica pandemia, quindi al livello massimo di attenzione. Ecco, secondo lei le parole di quel famoso discorso di una ventina di giorni fa, il primo discorso del nuovo Premier, in cui ha osannato l'impegno a favore dei giovani, delle nuove generazioni, rappresentanza del futuro, è una speranza oppure un'utopia. Lo chiedo a lei, insomma, che fa parte di quella categoria appunto che vede il futuro magari un po' nero dalle sue parole, l'abbiamo letto così. Guardi, ovviamente fa piacere che il Presidente Draghi abbia dato nel proprio discorso alle Camere questa attenzione ai giovani, però la verità, e mi spiace dirlo, ma lo direi francamente per qualsiasi Presidente che ha parole siamo tutti bravi, cioè voi avete mai sentito un Presidente del Consiglio che è salito e ha detto no, a noi dei giovani non interessa nulla, non vogliamo investire sui giovani. Il Presidente Draghi si è preso un impegno chiaro e noi crediamo, anzi chiediamo, che questo impegno debba essere rispettato. Ad esempio il tema del recovery fund è sicuramente centrale. Nel recovery fund i giovani, le nuove generazioni, mi sembrano messi un po' da parte. Sull'università, ad esempio, il vecchio piano di resilienza presentato dal governo Conte prevedeva un miliardo, soltanto un miliardo, tra l'altro aumentando la nota taxaria in sostanza di 500 euro. Senza andare in tecnicismi significa che sarà una crescita veramente esigua degli studenti che non pagheranno le tasse, ma allora il punto è vogliamo fare sul serio oppure dobbiamo sempre accontentarci delle briciole. E veramente mi spiace fare questi ragionamenti, ma noi vediamo, cioè facciamo delle analisi anche con gli altri paesi, con gli altri paesi europei con i quali l'Italia deve confrontarsi. E quello che vediamo è che l'Italia è sempre in fondo alle classifiche. Quindi veramente io spero di cuore che Draghi mantenga queste promesse. Io lo spero veramente, però non faremo sconti. Quindi noi vorremmo anche delle risposte. Ci sarà un nuovo piano, un recovery fund. Vediamo, vediamo se veramente investeranno sui giovani. Tra qualche mese ci sarà la prima legge di bilancio del governo Draghi. Vediamo se ci sarà un'inversione di tendenza. Però deve essere un'inversione di tendenza seria, perché purtroppo non sono quei 100 milioni che possono sollevare un sottofinanziamento cronico del mondo delle istituzioni e delle università. Servono miliardi di euro. Come fanno gli altri paesi? Nulla di più, nulla di meno. Sì, è proprio così. Vice sindaco, ritorno da lei. Cambiamo un attimo pagina. Parliamo di vaccini e vaccinazioni. Ieri sono partite, rimanere anche un po' in tema, quelle relative al mondo scolastico. Ma la domanda che io le faccio, che poi è quella del nostro titolo, è una strada in salita o in discesa, quello delle vaccinazioni? Un bel dilemma. Guardi, ho fatto un sospiro. Al momento le direi che, eh sì, insomma, io vorrei che fosse in discesa, ma in questo momento siamo ancora in salita. Probabilmente siamo nell'ultima parte della salita prima della discesa. Però siamo in un momento in cui confido nella struttura di governo. Il governo si è insediato, ha dato nuovi incarichi, ha messo a capo un militare, un generale di corpo d'armata. Io confido che la struttura militare, insomma, noi abbiamo alti dirigenti dello Stato che hanno sempre dimostrato in ogni parte del mondo la capacità, l'organizzazione, l'immediatezza di risposta alle problematiche. Ecco, in questi giorni c'è un silenzio, quindi non è detto che sia un silenzio negativo. Io confido che organizzata la macchina predisposta per poter affrontare immediatamente, diciamo, una vaccinazione di massa, non appena arriveranno tutti i vaccini che dicono arrivino a fine mese, inizio del mese prossimo, si possa davvero andare a tappeto e questo lo dico. Io personalmente sono favorevole ai vaccini, io quando sarà il mio turno? Probabilmente il mio turno sarà molto in là nel tempo perché, ringraziando il cielo, sono in buona salute e ho solo 40 anni. Però qual è la questione? È quella di affrontare con certezza, noi l'altra sera abbiamo fatto un convegno in collaborazione con Avis, col professor Baldanti, il quale ha spiegato molto bene tutti i pro, tutte le differenze dei diversi vaccini che ci sono in uso in questo momento nel nostro paese e per cui io sarei propositivo a dire che bisogna vaccinarsi, bisogna in un numero sempre maggiore, se non totale, insomma che è l'auspicio di tutti, raggiungere un numero alto. Per la nostra realtà, come in altre realtà, oggi si parte dai medici di medicina generale che vanno ringraziati come tutti i medici delle strutture ospedaliere per il lavoro, la negazione, il sacrificio che in questo anno hanno dimostrato e tanti con il sacrificio alto della vita. È evidente che oggi se ci sono medici di medicina generale disponibili a somministrare agli oltreottantenni il vaccino, la cosa scorre velocemente. Io, il sindaco nostro di Stradella, si è dato da fare nei giorni scorsi con contatti diretti con i medici perché c'erano comunque anche tra loro alcune titubanze fondate da motivazioni non superficiali ma profonde. Si è riusciti a trovare una sintesi che ci consentirà nei prossimi giorni di poter concludere la vaccinazione che di fatto è iniziata perché io oggi ho sentito un medico di medicina generale il quale mi diceva guardadino io nel giro di una settimana finirò la vaccinazione a tutti i miei pazienti ed è un massimalista quindi a oltre 1500 puntuali. A proposito appunto dei medici noi approfondiremo questa sera all'interno del nostro Tg e andremo avanti magari anche nei prossimi giorni proprio questo discorso perché pare stando ai dati che la metà dei medici di base della provincia di Pavia non vuole vaccinare quindi insomma è un dato importante, un dato significativo che potrebbe rallentare non poco tutta questa grande campagna di vaccinazione di massa quindi approfondiremo appunto questo aspetto all'interno del nostro Tg dedicato appunto a Pavia e provincia. Agutoli prima di rivolgerei una domanda appunto sui vaccini io andrei a vedere invece i dati di oggi relativi ai contagi. Cosa ci dicono? Che a fronte di 47.619 tamponi i nuovi positivi sono 4084, la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è all'8,5% quindi è leggermente calata rispetto alla giornata di ieri. Salgono purtroppo ancora i ricoverati in terapia intensiva più 14, più 216 ricoverati nei reparti ordinari per un totale di 5.416. Salgono inevitabilmente anche i decessi più 63 per un totale di 28.853 decessi da inizio pandemia. Andiamo a vedere l'incremento casi per provincia, ci focalizziamo sull'Interland di Milano, 1.056 nuovi casi di cui 505 registrati a Milano città, Pavia fa segnare più 224 nuovi casi. Questo è il bollettino di oggi. Allora visto che abbiamo ancora una manciata di minuti volevo fare intervenire appunto Agutoli in rappresentanza anche degli studenti dell'Università di Pavia in merito alla situazione vaccinale. Ecco lei come visualizza questo momento anche con gli occhi di un giovane insomma di un giovane studente. In questi giorni come dicevamo sono partite le vaccinazioni per l'apparato studentesco, quindi insomma cosa si aspetta a lei? Quello che percepisco io purtroppo sono una serie di ritardi. Parlavamo prima di, anzi la domanda ancora rimane strada in salita o strada in discesa, la sensazione di noi giovani studenti è che è una strada molto in salita e qua dobbiamo distinguere tra alcune categorie di studenti che devono essere vaccinati molto molto velocemente, sono ovviamente gli studenti specializzanti ma anche gli studenti tirocinanti ossia evidentemente quegli studenti che poi devono fare pratica in corsia negli ospedali e loro devono essere un'assoluta priorità. L'avete parlato diverse volte anche nel vostro canale è chiaro che per loro la vaccinazione deve essere un'assoluta priorità perché il vaccino è la condizione necessaria affinché loro possano poi rientrare in corsia e quindi effettuare tutti quei vaccini scusatemi tutti quei tirocini, quell'attività di pratica che è assolutamente essenziale. Dopodiché c'è una questione più generale. Io ovviamente non sono un medico però ho capito perfettamente che senza i vaccini non ne usciamo e quindi l'obiettivo deve essere per quanto riguarda gli studenti vaccinali entro massimo agosto inizio settembre perché se ci ritroviamo di nuovo a settembre ottobre con l'inizio dell'anno scolastico, l'inizio dell'anno accademico con una popolazione studentesca non vaccinata siamo veramente punto a capo. Quindi quello deve essere il target e se Draghi e Speranza, se il Presidente Draghi e Speranza si sono posti come obiettivo di vaccinare tutti gli italiani entro l'estate, bene, quello deve essere l'obiettivo, se no siamo punto a capo. Siamo alla fine, io ringrazio davvero di cuore Simone Agutoli, segretario del coordinamento per il diritto allo studio Udo di Pavia, ringrazio anche il vice sindaco di Stradella Dino Di Michele, chiudo qui questa bella puntata, noi ci vediamo puntuali domani come sempre alle 18 con Linea Attualità ed ora vi lascio in compagnia invece dei nostri notiziari. Buona serata!